we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi grandi novità per quello che riguarda il nostro fortnite direttamente da tutto il mondo sebbene stiamo aspettando l'arrivo della patch 9.10 che porterà una bella ventata di roba interessante le cose incredibili continuano a succedere nel video di oggi ragazzi infatti voglio parlarvi di alcune novità ufficiali diverse ovviamente da quelle che vi ho fatto vedere qualche giorno fa relative alla patch di cui vi ho appena parlato una nuova skin che in realtà l'avete vista vi ricordate sofia avete visto il render avete visto il modello in 3d ma vi voglio far vedere in game se ci sarà tempo come è fatta perché è molto diversa e ragazzi ovviamente l'argomento del giorno sulla bocca di tutti spero che anche qua in italia se ne sia parlato ragazzi è successo un casino raga è successo un casino con tfew non voglio dirvi voglio spiegare bene cosa cavolo è successo prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore per supportare il canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima la domandina raga vi devo fare la domandina che mi rispondete sempre in tantissimi e vi ringrazio un sacco qua sotto nei commenti domandina di oggi molto interessante ma preferisci il p90 o il nuovo fucile d'assalto col mirino ragazzi la povera p90 è stata messa in magazzino per dare spazio al fucile con il mirino unica arma che ha un mirino e non serve a niente perché comunque quando miri è come se stessi mirando con una r normalissimo bella la velocità è sicuramente un punto a favore il tempo di ricarica ma porco mondo secondo me il p90 non me lo dovevano sostituire con sta caca cioè non lo so io voto il p90 ragazzi voglio sapere invece cosa votate voi mi raccomando qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere un attimo questo articolo enorme che ci fa vedere un po di update ufficiali relativi appunto alla nuova patch voglio cominciare a leggervene alcuni nuovi suoni la cosa più importante ragazzi sono un sacco di effetti sonori aggiunti ma non sono le uniche cose che ci interessano nuovi suoni per il fucile a pompa nuovo suono per quando si utilizza una jump in modo che sia più facile capire da dove ci sta arrivando l'avversario quindi appunto senza avere più il dubbio della direzione hanno modificato e alzato il suono dei passi quando sei accovacciato quindi si dovrebbe capire un po meglio se c'è un player accovacciato in che direzione è modifiche anche ragazzi per added new headshot più shield break sound quindi se tu colpisci in headshot un giocatore che ha lo scudo si sente un suono diverso sai che quando lo fai adesso si sente una specie di vetro che si infrange ecco adesso il suono sarà diverso ma la cosa molto interessante ve la voglio far vedere un po più in grande il nuovo sistema di rimborso per i balli cosa succede acquisto un ballo non mi piace entro cinque minuti dalla data di acquisto e se non l'ho utilizzato in game posso restituirlo e riottenere i miei v bucks probabilmente ragazzi scusatemi non di nuovo ballo scusatemi non i nuovi balli è tutto quello che prendete nello shop cosmetics dovrebbe voler dire qualsiasi cosa ma non dovete averlo utilizzato in game ragazzi quindi probabilmente un fattore che può servire ad esempio agli youtuber o comunque ai portatori di contenuti di far vedere magari skin nuove e poterle rimborsare senza perdere v bucks altre cose interessanti ragazzi sono relative al falò prevent movement previene i movimenti non so bene che cavolo voglia dire al campfire ma un'altra cosa importantissima invece per quanto riguarda il nostro gameplay quando la barra della salute comincia a diventare critica tipo siamo a 15 a 20 per dire non sarà più verde ma diventerà rossa e ci sta un botto perché almeno non è che posso stare a vedere ma mi accorgo con l'occhio che magari qualcosa di pericoloso sta succedendo e quindi c'è il modo per ovviamente riuscire a recuperare la salute ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi il nostro faccione sorridente che è un po strano in questa foto ragazzi il nostro tfew allora è un casino da spiegare perché è un casino io non so se avete letto gli articoli americani inglesi e piano piano francesi tedeschi che stanno girando allora qualche ora fa tfew posta un tweet su su twitter ovviamente denunciando il face clan ok il clan dove lui è membro e dice il face clan ha contravvenuto a determinate regole a determinate regole ci sono state delle cose sbagliate e accusa pesantemente il clan oltre di aver contravvenuto a delle regole che non specifica di avere questo è un estratto dal documento ufficiale invece è una denuncia vera e propria questa questo non è il tweet di twitter di tfew lui dice hanno violato il codice 1700 33 1734 35 36 durante il ritiro del team in california dove è stato somministrato un quantitativo alcolico a al nuovo membro del team che stiamo parlando hanno fatto il festino ragazzi dai diciamocela adesso non stiamo a fare le cose legate hanno fatto il festino per festeggiare l'ingresso di un porca miseria abbiamo sbagliato piano di high sky chi è high sky ragazzi high sky è il il membro più giovane del cammi si è ubriacato a merda high sky allora un attimo a un attimo ha bevuto dovete capire una cosa in america sappiamo tutti per dire non c'è il portodarmi ma se ti beccano che non hai 21 anni a bere anche un dito di birra sei rovinato loro sono così non gliene frega un cavolo se spari alla gente ma se bevi che non hai 21 anni vanno fuori di melone mi si ubriaca la high sky nel senso mi beve l'alcol tfew ne approfitta per fare la denuncia al clan ma lui non voleva in realtà denunciare davvero questa cosa gli è servito come trampolino perché che cavolo succede preso dalla furia gli risponde su twitter facebanks facebanks è il proprietario fondatore del face clan che gli dice you're a piece of shit dude sei un pezzo di merda papale papale e quando io ho letto il tuo post non ci potevo credere perché lui dice way to fan jump o de bedwagon ences qua lo sta insultando abbastanza pesantemente ma gli dice cos'è che succede dopo averlo insultato gli dice noi non abbiamo preso i tuoi soldi e qua mi crolla la serietà del face clan perché che diamine successo ragazzi si sono scoperti cioè il problema è che tfew non ha ricevuto i compensi relativi alle vittorie nei tornei alla partnership con il face clan e agli introiti del dei sottocontratti stipulati con face clan quindi tutto quello che è anche relativo alle visualizzazioni su twitch il problema è che non è stato lui a dire che non gli aveva ricevuti è stato il genio fondatore face banks che dice nel post dopo quello che tfew è raccecato dalla rabbia perché ha detto cose senza sé quello che tfew dice è assolutamente incredibile la prima cosa che voglio dire è che noi non abbiamo mai preso l'ottanta per cento di di quello che tfew doveva guadagnare ma tfew non aveva mai detto che loro avessero preso i suoi soldi non siamo sicuri da dove vengano fuori queste sue parole e noi vogliamo continuare a dire che abbiamo preso zero da lì parte ovviamente il fuoco che va a inondare tutto il eccolo qua l'ubriacone di x sky no ragazzi penso che non si sia ubriacato mi sa che si sia ubriacato a merda la x sky raga viene su il disastro da lì esce il discorso che tfew non ha preso un soldo che doveva in realtà prendere parte il comunicato ufficiale dei phase che dicono noi continueremo a sopportare tfew questa roba ufficiale ma è continuiamo a sostenere la causa che in realtà non gli abbiamo mai preso un soldo che non fosse nostro in realtà ragazzi questo è l'inizio perché è successo da poche ore il disastro è imminente e già tutta la community mondiale parliamo di gente con milioni e milioni di iscritti ha cominciato a dissare pesantemente il phase clan perché ovviamente non si può non pagare comunque il lavoro poi loro dicono in realtà noi non gli abbiamo pagato le migliaia di dollari che gli dovevamo perché lui si è guadagnato i suoi milioni ragazzi sta succedendo un disastro io spero in qualche modo di avervi un attimo indottrinato su quello che è capitato a tfew vi invito a leggere ovviamente gli articoli inerenti in inglese che sono molto più esaustivi ma vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 ciao